Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Jurassic Park Danger, edizione italiana a cura di Ravensburger Italia che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione e per la possibilità concessami di collaborare con loro. Penso non ci abbia bisogno di nessuna presentazione, si parla del primo film della saga, si parla di un capolavoro cinematografico che ha fatto l'infanzia di tanti di noi, se non praticamente tutti, e di un gioco cooperativo molto veloce, nello stile della Ravensburger, e davvero divertente. Gioco sia cooperativo, perché tutti quanti dovrete cooperare per salvarvi da Jurassic Park, ma uno dei giocatori farà la controparte e muoverà i dinosauri, in una competizione molto sana, veloce e divertente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Jurassic Park Danger, in questa edizione che vedete qui davanti a cura di Ravensburger Italia, è un gioco, come vi ho detto, sia cooperativo che competitivo, perché fino a quattro giocatori potranno collaborare e fare il professor Grant, la professoressa Ellie, se vi ricordate, Ian Malcolm, che dovranno sopravvivere e salvarsi dal Jurassic Park, ci sono anche due bambini, mentre invece un altro giocatore e uno soltanto muoverà i dinosauri, che nella confezione del gioco sono rappresentati in meeple di legno, però anche molto carini, che sono il velociraptor, il tirannosauro e il dilophosauro, quelli più famosi, insomma, più iconici, che abbiamo visto nel film. Ed è un gioco dalle meccaniche veramente semplicissime, un gioco tipo lo squalo, se vi ricordate sempre della Ravensburger, che sembra pensato per un pubblico giovane, ma il bello dei giochi della Ravensburger è che sono titoli per tutti, alla portata di tutti, veloci, con un regolamento di quattro pagine, però non vengono mai meno alla tattica, alla logistica. Cioè, sono giochi in cui dovete calcolare bene ogni singola mossa, quindi potete dire anche quasi per hardcore gamer, ma con un regolamento molto semplice, soprattutto, come vi ho detto, veloce, da imparare, da spiegare e poi dopo da applicare. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, molto carina, non grandissima la scatola, perché il contenuto non è immenso e pieno di roba, però è veramente carina, è il classico logo del Jurassic Park, che non ce lo dimenticheremo mai, Jurassic Park Danger, vedete il titolo della Ravensburger. Apriamo. All'interno abbiamo il regolamento, come vi ho detto veramente, queste qui sono le pagine del regolamento finite, perché poi dopo più che altro ci sono consigli e tattiche particolari, vi dà anche dei consigli su come giocare le due fazioni, dinosauri e eroi, quindi è un regolamento veramente semplicissimo. Qua dentro abbiamo tutti quanti i tile, che ora fra poco vi faccio vedere montati nella spiegazione, tutte quante le aree di gioco dove possiamo giocare, sull'isla Nublar, mi sembra si chiamasse o Sorna, no, forse Isla Nublar, era quella del primo film. Tutti quanti i token, che c'è tipo l'elicottero, i campi elettrificati, poi abbiamo i lucchetti, zone che voi bloccate, gli bloccate l'accesso ai dinosauri e non possano entrare, e altri token che abbiamo qua dentro. Poi ci sono i dinosauri, che sono i meeple, che sono il diloposauro, il tirannosaurus rex e il velociraptor, il dado da 6, che è l'unico dado che si tira per fare delle prove che vengano date, che ne so, per superare ostacoli, attivare fabbriche e cose del genere, i meeple, che rappresentano i nostri personaggi, le schede dei personaggi, ciascuno ha un'abilità speciale, e vedete un colore che lo va a identificare anche col meeple, e poi tutte quante le carte del gioco, che sono mazzi per i dinosauri, con le azioni che possono fare i dinosauri, che ne so, il giocatore del dinosaurio pesca questa, può muovere i due dinosauri facendoli correre. E dall'altra parte invece ci sono tutte quante le schede, le carte dei vari personaggi, divisi ovviamente con la foto del personaggio, perché ognuno ha il suo mazzo. Vi faccio vedere un po' come funziona. Le regole di gioco, come vi ho detto poc'anzi, sono veramente banalissime. Abbiamo la mappa del Jurassic Park, tra l'altro riprodotta veramente bene, con una casella di partenza centrale, e tutte le altre esterne. Abbiamo tre zone principali, che sono quelle, tipo la stanza dei generatori, sono le tre zone che dovranno essere attivate tutte e tre, per avere la possibilità di sbloccare la piattaforma dell'elicottero, e far scappare i nostri eroi. Quindi lo scopo del gioco è quello di attivare queste tre cose, scappare all'elicottero, ma non soltanto quello, perché ciascun personaggio, che se lo porti dietro, che lo debba trovare, ha anche un obiettivo. Quindi non potrà fuggire, fino a che non avrà compiuto il suo obiettivo. Tutti quanti i giocatori giocano insieme, il giocatore che muove i dinosauri, muove contro i giocatori, e le regole del gioco sono semplicissime. Ciascuno ha un mazzo di carte in mano, parlando degli eroi, dei protagonisti, e una volta usata la carta, la carta andrà scartata. Quindi la vostra possanza sono le carte che avete in mano, perché quando finirete le carte che avrete in mano, perché le avete finite, o perché un dinosauro vi ha attaccato, e quindi quando vi attacca vi fa un danno e vi fa scartare una carta in mano, quando non avrete più carte in mano e verrete attaccati, il vostro personaggio sarà morto e fuori dai giochi. Quindi si muore e si perde la partita quando non si hanno più carte in mano. Ci sono zone elettrificate, spente, che dovrete scavalcare con una carta appropriata, montagnette che dovrete scavalcare per riuscire ad andare nella zona successiva, o zone dove ci si può spostare normalmente correndo, muovendosi normalmente, o muovendosi stealth, che è una regola particolare che ci consente di muoverci indisturbati, cosa che possono fare anche i dinosauri per attaccarci, soprattutto il velociraptor, mentre meno ce l'aspettiamo. La differenza col giocatore che muove i dinosauri è che le carte che usa in mano e ne ha sempre tre a inizio turno non finiscono mai. La usa, la scarta, ma successivamente ne ripesca subito un'anta per averne tre in mano e quando gli finisce la pila degli scarti la rimescola e la rimette lì. Quindi il giocatore dei dinosauri non finisce mai le carte. Voi invece le avete contate e oltre a dover fare tutte le missioni che ci sono sulla mappa, ovvero, per meglio dire, attivare le tre zone, dovete fare anche il vostro obiettivo principale, scappare. Se arrivate a un certo punto che avete finito le carte che avete in mano, molto probabilmente non potrete più scavalcare, non potrete più correre, non potrete più muovervi e sarete alla merced di dinosauri che vi sbraneranno. Quindi un gioco cooperativo perché dovete calcolare bene parlandovi fra giocatori come usare al meglio le carte. Se vi rimane una carta in mano e siete troppo lontani dall'elicottero, siete stanchi e siete finiti. Meccanica molto carina. In conclusione, il gioco è veramente facilissimo, c'ha davvero quattro pagine di regolamento, è un gioco alla portata di tutti. Questo, come dico sempre, che io adoro soprattutto, lo sapete, i dungeon crawler, però adoro ancora di più, li metto sopra, i giochi che potete presentare ovunque. Perché se una sera volete fare una giocata con amici che magari un pochino più navigate di giochi da tavolo, lo portate e ci divertiamo. Se volete far giocare un bambino o qualcuno non molto avvezzo a questi tipi di giochi, comunque giochi da tavolo, lo potete mettere anche tranquillamente in mezzo a gente che gioca a rischio ad hotel. Senza nessun problema. Perché ha delle regole semplicissime che si spiegano velocemente un gioco di carte. C'è scritto sulla carta cosa devi fare e lo fai. Punto e basta. Quindi è veramente divertente. Ve lo straconsiglio da morire. Il contenuto è pochino, però è giusto per quello che deve fare e poi anche per il costo ridotto. E si pimpa in 3D da morire. Se vi interessano, comunque, contattateci. Ve lo lascio sempre come link in descrizione nel negozio di mia moglie, Electra 3D Print, perché vi possiamo stampare tranquillamente dinosauri e anche personaggi da mettere nel gioco così da non avere Mipo ma avere proprio dinosauri fisici. Concludo ringraziando Ravensburger Italia per avermi offerto questa coppa per la recensione e ragazzi non ve lo fate scappare perché è un titolo veramente divertente e ci potete mettere anche il cuginetto di 8-10 anni a giocare e sono convinto Dinosauri o Ishigarbana a tutti. Quindi è un gioco che vi divertirà veramente da morire. Primo link in descrizione dove andarlo a comprare direttamente dal loro sito e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e alla prossima!